Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzano e BV1 Variante in direzione di Bologna. In Fipili possibili rallentamenti al chilometro 17 per lavori tra Montelupo e Ginestra in direzione di Firenze. Con uno sguardo alle statali segnaliamo scambio di carreggiata per Cantieri sul raccordo Siena-Firenze tra Monteriggioni e Siena in direzione di Siena. Ci spostiamo sulla statale 63 del Valico del Cerreto per Cantieri, troviamo senso unico alternato tra Valico del Cerreto e Casina. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, segnaliamo ritardi e cancellazioni sulla Siena-Empoli a causa di un problema ad un passaggio a livello tra Badisse e Castellina-Inchianti. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!